Ti faccio una domanda personale per un gusto di sapere le cose. Stai registrando? Allora, è vero che i cartoni animati sono colorati al computer, sì o no? Sì, è vero. La prima domanda è no. Adesso sono colorati al computer. Finalmente possiamo rispondere sì a questa domanda. Questo è stato un video. Ci sono ancora cose fatte a mano perché ci sono.